buongiorno buonasera proprio grigio e dopo un mese un mese perché un mese zombie in tre con parla forte se non ho capito e sono andato a prenderlo a casa sua perché non poteva venire se no ok sono quello in alto a sinistra acce non ti presenti no lui è tranquillo siamo quelli della cia abbiamo vinto guardiamo se sta qua acce presentati amica si presenta la visione acce ti devi far sentire che c'è un piccolo problema la cassa è dentro l'edificio e chi se ne frega ma sei vantaggiato si piacciono i giochi guarda subito mi sto uccidendo c'è un po' guarda tutti i lavori è il solito giocatore bianco a città non so se lo sai quindi giocatore bianco essendo io attivo più giocati di fatto di più città è possibile andare dai bucchi le pareti e rifai. ma chi se il sacco non è l'ultimo dove sei ciao zonina 2 3 4 perchè mi ha rubato lei di studia è del sud è deciso no mi ha dato punto il secondo round e sì dobbiamo arrivare almeno a 10 perchè se non arriviamo almeno a 10 siamo delle serie assurde bastardo acce ti ricordo che c'è la lava io direi che ho avuto dopo l'altra questa io direi che qua c'è il pacca pancia cosa qua c'è il pacca pancia sei un idiota ma ci metà l'ho ucciso chi l'ho ucciso ma io però dopo l'ho ucciso l'ho ucciso chi io esattamente ancora secondo me ecco per sicurezza non fa mai male spiace dove sei dove l'interno in testa cura io che dovrei dire che lo faccio la casa prossimo io c'è una problematica o pericolosi una mila e settecento santa ma l'ha presa l'arma 8 colpi di racchistoria non so se si conviene che a proia no facciamo un altro grado quello perché è una fatta che non vale prende quell'arma ma dopo un po' prendere qualche 5 tanto costa mille costa mille io apro e prendo la cassa questa faccia avvento la cassa non si succede subito è meglio le preferenze l'esercizio i soldi perchè mi passa solo adesso unico questo senza testa sarà una partita serie se le pile mi abbandonano minciazzo dalmeno 50 minuti di dove registrare c'è un piccolo vero benvenuto non c'è un disco perché non è automatica esattamente no al soggetto questo lascia la mia faccia si muove in azione gatto c'è stato perché siamo in un certo ci stanno un po' qua la città che lavano i fai puntini anche te scusasse la città adesso andiamo a prendere cnpc chi ci ha più punti io si vede a te dove sei no perchè entriamo la cassa ci sono facili no io penso 5 perché se presenti si prende la cassa 5 quanti qua grazie per quello che si è così come te tanto non mi sembra che c'è stata scelta voglio dire che c'è stata scelta anche ecco 5 si quindi la ponte chiusa l'acqua non 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 neanche senti dai che un po' apriamo e ci prendiamo come la cassa eppure un po' capo vieni qua davanti a guardare sui la fatica non sa che adesso ci sono i cani, non puoi dire, non ci credo, hai messo i cani messo, no, non mi immagori, c'è l'ultimo, c'è l'ultimo dov'è, eccolo, entriamo tutti, ci chiediamo tutti, ci chiediamo tutti, aspetta, aspetta, facendo, guardiamo se ci sono i cani, 2.690, 2.690, no, non ci sono i cani, qualcuno chiude questa cosa, che intanto devo prenderla, teace vostro foglio confermato, adesso vetti tipo lanciapianato, oh i cali, adesso lo prendo anch'io, eccolo, e il cali è l'uno dei più forti, e vai, non mi dico che hai preso, il baguette incredibile sono, sono un corio, che hai fatto? non lo peccate ovvio 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 io ho qualsiasi faccio un po' poi dopo oh bomba si chiama un po' di chi tutte le entrate perchè 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 dove sono perchè dovrebbe carmi perchè se la morita si chiama zombie dovrebbe cari di zombie no io ti vuoi shotto col barbettino scoop eh che fresco che so io quello a cercare perchè siete tutti due qua dentro io sono appena entrato come i campi come i campi come i campi ma ci vuoi passare uno sconso di uno dietro quindi mi so ringraziare grazie no mi ha detto a cercare sbagliato che è l'ultimo mi dice da come sicuramente l'ultimo tanto dove chi è che pace vai vallare ma vallare ma vallare ma vallare ma vediamo se ci sono i cani sperando che ci siano i cani e spiegando che non ci sono i cani e che non ho mai fatto con i cani che sono questo ci penso io si mi fanno i b grazie vediamo ma non ci sono i cani che mi arriveranno al prossimo anno ma non sapete si sta nel mondo il cielo diventa scuro io vado a fare caso guarda da risolto magari non spiegare sarà ok a spiegare non scendere scagli come siamo stati ovviamente ac incredibile io io riparate qua riparate penso io ecco questo c'è un po' sotto però al prossimo ci sono i cani io non ho ancora una secondaria decente sicuramente eh si arrivano nei primi sette round quinta o sesto ancora sono arrivati fermi tutti e una prova di gambe e ce ne vanno dietro parecchia dietro da bestemmia le munizioni adesso che non servono no è più che vedi pezzi di braccia che ti portano in testa o chiunque sta sulle scale lascia scappare a buon c'è c'è ma posso vedere una secondaria decente ooooh l'ammer è una delle più forti quali fatti sono legali l'ammer si aspetta che prendo il tira pugni altre volte aspetta prendo il tira pugni l'ammer c'è 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 attenzione ok ok seguitemi nessunità in un'altra casa la conosco c'è c'è 4 4 4 4 4 4 non ci credo non volerà 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 11 10 11 11 12 11 12 12 12 12 13 13 13 14 14 direi c'è il biglietto i direttori cani che almeno possa essere fattibile la cosa no ma senza che poi non c'è le munizioni perché che carità le munizioni e deve perché non ho cambiato e maggiore che anche se non è capito io per terra agonizzati ma prima di morire c'era la pistolina come secondario che c'è la zona emozioni io non risparmio metto sti cani sì o no quanti minuti siamo 14 quando è al massimo 50 e allora ti metto siano indietro cento per centri a cpd se la prova aspetta adesso si è fuori la cassa prendiamo la cassa prendiamo la cassa si è dentro si è frappeggiato se fuori le armi dopo un po dopo che abbiamo senza punti apriamo se non c'è più caso quando la casa è fuori finita capito so che entriamo dentro la campi diamo per modo che di capire magari sono ciò c'è chi sarà lanciagnati lanciarazzi se c'è apposta dall'alto secondo la cura 2 simpuno si mette mai davanti dove sta la cassa guarda in alto il soffitto è avvocato a sinistra guarda la porta e non si mette il corridore e qui è fattibile una cosa che fa imparato a terra ma ci sta non restituire lontano che la loro più bella è che sono andata diciamo io da solo io adesso non mi ricordo 22 o 21 22 quindi la colpa non è mia ma di quest'altro che ha fatto più grande di me e ha morto più volte di me e oggi per oggi perdiamo perché stanno se siamo con questi capi le tute che vanno subito c'è tipo round 2 è già tanto giusto ace l'assassin's great assassin's great io essere boliviano il fatto che è qua la cassa acero magari sulla lava se non c'è il preferito non so un vino è sempre la le primi non ci credo chi non è la quale città quando non c'è più l'attore i piedi non lo voglio all'uno infatti che se io voglio te fanno giù ai canali ti d'accordo da suicidati che devo dire da dove vengono sono zunni mondo cani mondo all'1 perchè sei stato al ho sottolineato la situazione ce ne avevo due che mi stavano lì se trovi che muove al 2 chi è togli? da solo? no col frattempo mi ha detto abbiamo fatto transit siamo morti al 2 poi abbiamo fatto città siamo morti al 2 succede di moriglio al 2 succede chi è che c'ha 0 punti? ah dato che mi sono preso il fucile e dato che non hai ucciso nessuno perchè parti con 500 punti incredibilità ci non ci posso creare hai fatto veramente 0 punti il fatto è che non avremo una porta per prendere il mp7 non il pc quello che è perchè che non ha 0 punti va bene invece ho fatto la vita con il pc c'è una tattica il prossimo round cassino come gli animali trovavo a lotto perchè e già questo questa senza testa continuava camminare spesso 9 o 1 minuto sono zumbi tranquilli si ricorda i movimenti che la cassa e regalegare no per la sua persona tanto ancora la parte come secondaria potenze di ferrari ogni ripetimento ac credibile l'abitudine sai com'è all'istante subito ciao la cassa che cos'è la meta è usabile ma c'è la rapida giusto che non fa mai male l'abitudine anche fare per finire sono quelle belle energetiche appunto inutile a che servono non le ho mai presi la pesa la volta la pesa una volta risi che gioca con me cioè mi sembra che ha risi poi mi ricordo un corpo c'è il giardino che era quella di una caserma P5 che ti fa morire più con cinque colpi invece che due questa qua quella per correre di più si poi c'è quella per sparare più veloce che fa anche più danno eh però quella ha stato molto quella l'aiuto qua dentro c'è la sprint cola che ti fa ricaricare più veloce poi c'è la labda che ti puoi suicidare passa al round quando la riprendi c'è gli armi e bonus tutti utili e in 3 si potrebbe anche prendere tipo ace prendi in farla via posto 2000 e poi non lo dobbiamo passare non c'è credo no 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 ti puoi che c'è questo video in 10 ore pochi tempi caricati sono quelli buona fortuna e quando io la mezzola stoppiamo la prima parte non ci si dici a sette non colto molto bene incredibile viero carico bella quando non serve bella mesi sì perché quando non c'è c'era l'opera altrimenti non non le 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 se i adesso comincia a correre sentivo verso il prossimo round si è rascita apriamo dici c'è anche se no anche aspetta aspetta posso aspettare tipo come passare una storia via bellissima 21 minuti la zia aperta il video più lungo della mia carriera incredibile vero si è fiero fino alla massima da 18 perché ci metto 5 da pericolio se dico questo dovrà lasciare il computer accesso la notte e valga la pena che quella zombata che farò da solo dimostrando di arrivare almeno al grande indice sì ma adesso il fatto è che c'è meno zoni bravo è più tranquilla la cosa e poi tra la giustizia medica bravo come te pare sai quante volte ti muovi perché devi salvare la mia finora te sei morta l'uno e vabbè vabbè questo è in casa porti qua e lui non è mai morto il che mi fa venire voglio di suicidare e quindi in effetti perché ci sono di qua da qua e qua ho vabbè no 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 perché non vuole perché se ti spaventare all'esterno si spara lo stern interiore se ti capisco soprattutto sono zumbi non guardano l'ultima la cassa belle io c'ho meno punti di tutti se ci capisco io comincerei a prendere le bibite o prendete il tiropugno sa se che non ho preso tutti dicono che è consigliabile quindi facciamo strada io mi finiscerò le rpd un'altra di questi metri se abbiamo visto non so se sai che sono deficiente esattamente sempre meglio da togliere la lega vabbè dai non cambierà se io sono fatto e metto sempre la lega se adesso questo è molto meglio sicuramente ho spavuto il testo a questi nuovi ed servirebbe da portare eh sì pure l'altro poi dopo potresti anche potenziare armi potenziali all'inno ti ha citato dal mi dispiace non è colpa mia in realtà io ho quello da passacosino da fare un sentiero no 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 oh no molto acce eh vedi eh vedi non puoi dire almeno troppo il nostro sogno è stato bello finché facciamo strade ci veniamo fino a prima parte vabbè intendiamo quelle percire amiamo vedi di non farmi ammazzare chi è stato un minimo mi ha anche scordato che l'amor parte cosa succede ma siamo ancora 25 minuti non fa anche il settimo c'è il fatto è che la cassa il fatto è che è una cassa ed è una posizione sconfissima 2,6 e vai quali pensi hanno visto la mattina da guerra c'è ah si è dietro 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 becca bella no 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 ancora non siamo a mezz'ora poi se poi non è stata telefonata se no queste non sono sbloccate e direi che finisce qui la prima parte arrivederci che 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 è è è che